Tia Dalma, ho bisogno del tuo aiuto. Chiedere aiuto non è degno di Jack Sparrow. Quali servigi posso rendere al mio vecchio amico? Questa chiave, devo trovarla. Forse puoi dirmi dove devo cercare? Potrei farlo. Ma come sai, caro Jack, esigo un compenso. Prendi per me l'amuleto smarrito dalla tomba di Lady Dunsmore. Tesoro, che ne dici di darmi un indizio su dove dovrei iniziare a cercare l'amuleto? Non ho molto tempo. Jack, se lo chiamano amuleto smarrito, una ragione ci sarà. Se fossi in te cercherai nel cimitero la cripta più grande e buia. Dovrebbe essere lì dentro, da qualche parte. Grazie. Grazie.